Namaste, io sono Eastbrave e ben ritornati ad un altro episodio di Castlevania del 1987 il primo per NES, vediamo di partire con questo, salviamo pure il progresso e vediamo di adentrarci bellissima la colonna sonora di questo gioco che vedrò di presentarvi ciò che vedete non è esattamente quello che avreste dovuto vedere sul NES ma ho messo un... a me piacciono molto questi filtri che modernizzano senza cambiare troppo è un filtro HQ praticamente questo, quindi alta qualità se no sarebbe molto più pixeloso perché il gioco per NES effettivamente a 8 bit è fondamentalmente molto più squadrato, molto più pixeloso appunto andiamo pure avanti, bello che ogni quadrante che facciamo io intanto continuo a usare la mia frusta per cercare energia in giro ma va benissimo così qua andiamo giù, attenzione al corvo, il corvo si ferma come potete vedere quindi lo potete abbastanza sistemare se vedete in alto a destra è segnato che siamo a livello 7 ma effettivamente quelle sono le... non sono i livelli effettivi perché gli stage sono 6 ma sono proprio i quadranti quindi vedrete che cambierà... in realtà ogni livello è composto da diversi quadranti questo è un po' una fregatura, bisogna stare attenti a beccare quello scheletro al momento giusto questo me lo ricordavo, quindi vediamo pure avanti vedete che adesso ho superato la porta e dal livello 7 passeremo a livello 8 quindi in realtà anche se siamo all'interno dello stesso stage è solo una parte qua facciamo avanti dietro come al solito perché andiamo alla stessa velocità delle meduse quindi in realtà basta trovare il tempo giusto e possiamo continuare ad avanzare un po' più lentamente senza neanche aver bisogno di distruggerle perché effettivamente spawnano e la vostra frusta non arriva mai fin laggiù quindi se avete fretta bisogna saltarle fondamentalmente oppure potete andare avanti in questa maniera quando ci sono più nemici contemporaneamente anche questo è parte del design fatta molto bene perché appunto vi mostra due tipi di nemici e poi ve li mostra insieme questo è un piccolo trucco però ci siamo presi un sacco di legnate sulla scala quindi succede anche questo qua siamo ancora all'interno della stessa sezione però ottimo che ho preso la ferma tempo che è la mia arma preferita, continuerò a dirlo sempre questi sparano più volte contemporaneamente quindi conviene usare il turbo che il turbo è un'opzione che c'era addirittura sul NES per chi non lo sapesse ma non nella sua forma originale qua facciamo pure un ricarico veloce perché effettivamente non ho energia e passiamo intanto questi due e poi ce la caviamo con loro la funzione turbo cosa vuol dire? schiacciare tante volte a ripetizione lo stesso tasto c'erano dei controlli all'appositi se non ve lo ricordate c'erano dei controlli al proprio turbo la funzione turbo si attivava e in questo caso l'ho messa anche sul mio in modo che posso tranquillamente tenere premuto un tasto e anziché tenerlo premuto effettivamente lo sto premendo tantissime volte rapidamente quindi mi permette di fare attacchi sempre più vicini uno all'altro invece se dovessi utilizzare, distruggermi il dito in questa maniera non sarei lo stesso così veloce quindi è un piccolo trucco ma secondo me fondamentale perché ad esempio quei due che sparano c'è un tempismo per poterle colpire ma usando la funzione turbo più o meno ci state qua usiamo questo per ucciderlo e andiamo pure avanti contro di questo ancora un'altra di queste statue che abbiamo visto in tantissimi altri giochi qua uccidiamo anche questo andiamo pure avanti qua bisogna prendere il tempo giusto e siamo come potete vedere c'è il castello là dietro quindi ci stiamo avvicinando sempre di più attenzione a non farsi prendere dal panico adesso perché bisogna affrontare vedete l'avevo detto prima ci sono due nemici che vengono prima visti nello stesso ho salvato troppo sì in là vabbè dai rifacciamo questo pezzettino vi dicevo c'è questo nemico qua sì è perché ho troppo e ho poca energia per quello dobbiamo ricaricare un po' la cosa però appunto ci sono molti nemici che vengono presentati prima in singolo ed è un livello di difficoltà e poi vengono presentati contemporaneamente ed è questa la grande forza di questo gioco effettivamente che prima vengono affrontiamo i nemici una alla volta poi viene aggiunto un grado di difficoltà che in questo caso sono le piattaforme e poi vengono aggiunti tutti e tre insieme ad esempio anche questo l'abbiamo già affrontato prima da solo e poi vedete che dobbiamo affrontarlo insieme a questi che sparano quindi se andiamo avanti saltando e basta è una cosa un po' diversa invece pure andiamo avanti così e in questa maniera riesco a risolvere questa situazione qua passiamo pure avanti vedete che sono despunati anche alcuni e qua se mi tocca non muoio quindi bisogna stare molto attenti saltiamo pure questa parte e andiamo direttamente di qua perché bisogna affrontare le mummie non funziona il fermo a tempo e infatti morirò tantissimo in questa situazione mi sa si non posso stare troppo attaccato quindi proviamoci di nuovo ho bisogno di quello ok adesso che sono a lato forse dovrei riuscire a farcela si la battaglia qua si vince cercando di arrivare su un lato e ce l'abbiamo fatta e quindi ci vediamo direttamente al prossimo episodio io sono Eista Brave Namaste e be brave e be brave